E salve amici e ancora benvenuti sul canale in questa ancora splendida giornata che c'è fuori, giornata di sole. Volevo dire qualcosa ancora sulla scomparsa della piccola carta. Io ho visto ieri ore 14 il programma di Rai 2. Onestamente non si può restare in silenzio, brevemente bisogna dire che ci abbiamo ai quattro mesi dalla scomparsa e il 10 ottobre saranno quattro mesi. Ho saputo che la comunità peruviana sta organizzando una grande manifestazione. Non voglio essere scambiato per colui che non ha sensibilità perché io farei una manifestazione oceanica a favore di questi bambini che vengono rapiti ma proprio perché è un crimine contro l'umanità. Questa manifestazione ha le caratteristiche sempre, delle caratteristiche particolari che la rendono fuori luogo perché è organizzata da questa comunità peruviana che tende a richiedere a una parte esterna, esteriore della società un impegno per trovare chi ha rapito la bambina, per chiedere chissà chi di riportare a casa la bambina, per chiedere la solidarietà delle istituzioni che criticano perché non danno risposte. E quindi una manifestazione sarà sicuramente di questa gente che gira dicendo vogliamo la giustizia, vogliamo la verità. La vogliamo noi giustizia e verità perché l'equivoco è quello. Devono fare la manifestazione contro loro stessi. Ecco dovrebbero fare una manifestazione magari gli italiani stessi dicendo voi peruviani, voi di queste bande che state, che stavate là dentro? Dite la verità, dite la verità. Io non so queste persone che sono venute in Italia ad occupare, ad occupare senza pagare niente per anni e quindi ufficialmente essendo nulla tenente, essendo senza reddito. Eppure ieri che cosa? Un'altra notizia. Ci sono i due avvocati del genitore di Cata, hanno assoldato il generale Garofano. Ieri c'è stata la notizia che hanno assoldato un'altra consulente, un'avvocato, criminologa Stefania Sordentino. Mi fa piacere per carità perché sono tutte persone certamente qualificate ma per fare cosa? Ma innanzitutto questi professionisti sono gratuiti ma sono gratuiti e vengono pagati. Cioè questi personaggi che teoricamente dovrebbero avere reddito zero perché non si è mai saputo nessuno di essi che abbia un lavoro stabile se non la mamma di Cata che faceva un pastime, non so se lo fa ancora presso un supermercato, non si è mai saputo di lavori. Allora tutti questi consulenti, avvocati, ma a cosa servono? Ma a cosa servono? A cosa servono? Non servono a nulla perfettamente. Perché? Dovrebbero servire consulenti per indagare dentro loro stessi, nel loro ambito. Quindi è una forma veramente, come è stato detto ieri da qualcuno in trasmissione, manca solo che assoldino a Sherlock Holmes o al tenente Colombo. Poi siamo a completo. Come pure un'altra forma che mi consentite, mi sembra proprio una cosa da circa questa, il fatto di addirittura di una raccolta fondi, cioè essi fanno una raccolta fondi, hanno fatto, mettono a disposizione dei soldi a favore di colui, di colè, insomma, che fornisce elementi per trovare la bambina. Cioè ancora ci si comporta come se questa bambina fosse sparita mentre camminava per strada. Allora dici, chissà, chi magari di passaggio, qualche pedofilo o qualcuno che l'ha presa. No! Qua parliamo di tutt'altro. E ancora si gioca nell'equivoco. Si continua nell'equivoco. È una provocazione senza fine. È una provocazione senza fine che fanno questi personaggi. che non hanno nessuna stima da parte mia e addirittura criticano le istituzioni, ma le istituzioni che stanno perdendo mesi per verificare migliaia di ore dalle telecamere. Poi devono fare questa famosa robatoria internazionale per verificare questa pista del rapimento per scambio di persone. Si attendono addirittura, si attendono i reparti speciali dei carabinieri che devono fare degli scavi, dei carotaggi, come si dice, nelle mura, nelle fondamenta, nelle mura, negli anfratti di questo exo del Astor, perché c'è il dubbio che magari sia stata messa da qualche parte lì, uccisa. Quindi, vedete, talmente stanno abbottonati nei loro segreti che gli stessi inquirenti seguono due piste del tutto contrapposte. Una pista che implica scavi nell'exo del Astor per vedere se la bambina sia stata uccisa e messa da qualche parte. Dall'altro lato fanno un robatorio internazionale per dire, chissà, forse l'hanno presa e l'hanno portata in Peru. Chissà, magari per sbaglio di persone, quando se ne sono accosti, magari era troppo tardi per postarli indietro. Quindi, poi si è assistito, vedete, a questa barzelletta, a questa commedia di cattivo gusto fra la mamma Caterina e Lidia, l'amministratrice, la rumena, con la quale, vi ricordate, a quattro grado, si diceva, no, ma io quando sono venuta, tu non stavi sulle scale, io ho detto, aiutami a cercare la bambina, tu poi sei venuta, lei dice, no, ma tu sei entrata nella stanza, io stavo a letto, no, tu non stavi sulle scale. Vedete, poi, ieri, a ore quattordici, c'è stata la testimonianza di quest'altro personaggio, una cugina di Lidia, quest'altra rumena, che si chiama Gina, che dice, no, ma mia cugina, non c'entra nulla, io stavo lì, lei stava in stanza, ed è venuta Caterina, e praticamente, insomma, poi sono andati insieme a cercare la bambina, quindi una testimonianza a favore di Lidia. E' qui l'equivoco, si cerca di deviare su i rumeni, i rumeni dicono, no, vedete dentro di voi. In effetti, credo che il ruolo fondamentale lo svolga colui che sta in carcere, dello zi Abel, non se ne parla, secondo me lì è la chiave di tutto, non si è parlato nemmeno più di quell'altra notizia che fu detta da mesi, non so se è stata verificata, che quella mattina del 10 giugno c'erano tre giovani, tre uomini, che cercavano zi Abel, non si è mai più parlato di questo. Quindi, la conclusione qual è? La conclusione è che o c'è effettivamente l'esore del sapimento della bambina, ed è un esore che pesa su questo zi Abel, che era lui, che stava lì, e tutti sanno, e tutti sanno, però non viene fuori, perché ho capito che le ragioni della comunità, di quella comunità così chiusa, prevalgono sulle ragioni della singola famiglia, cioè, tra due segreti, prevale la comunità. Si sacrifica addirittura all'altare del silenzio una bambina, figlia di peruviani, pur di non mettere in mezzo la comunità intera. Quindi, complici morali sono anche i genitori che sanno e non parlano, anzi sviano, lanciando accuse velate ai rumeni, e poi organizzano manifestazioni per il 10 di ottobre, scusate, iniziano, organizzano queste manifestazioni provovatorie per il 10 di ottobre, che non hanno senso, perché dovrebbero per il 10 di ottobre organizzare una riunione con gli inquirenti. Quello dovrebbero fare per il 10 di ottobre. Andate a dire a loro quelle che sanno, invece di avere dei consulenti. Nominano consulenti così, a pioggia. Consulenti di cosa? Per poi portarli a fare un giro nell'ex hotel Anstos, un professionista come il generale Carofano, che imbarazzatissimo dice, beh, siamo andati a vedere, c'è sempre qualcosa di nuovo che uno può vedere, oppure può pensare. E' normale. E' normale. Se uno viene assoldato giustamente nel proprio mestiere, che cosa fa? Dice, no, non ci voglio venire. Ma da dove prendono questi soldi? Da dove prendono? Ma perché buttano fumo negli occhi? E' qualcosa di ridicolo, e mi auguro anche in questo caso che gli inquirenti possano, possano, possano effettivamente dire parole di verità. Ecco. Quindi, con questa considerazione io vi lascio. Grazie mille amici miei, amiche miei, e buona giornata a tutti. Vi voglio bene. Ciao.